Tre anni di festival e 52 murales di artisti internazionali. Il miracolo di stornare è una visita virtuale gratuita. La zona arancione non scoraggia le visite guidate e così domenica 9 maggio le visite virtuali di Travelit svelano stornare la street art che ha colorato il paese. Si può stravolgere positivamente l'aspetto di un paese in soli tre anni? La risposta è sì e lo si vede a stornare. Era divenuta una piccola mecca della street art grazie all'APS Stornara Life e i 52 murales realizzati da artisti di tutto il mondo. L'associazione stornarese ha organizzato per tre anni consecutivi il festival di street art stramurales dando vita a un museo a cielo aperto sempre visitabile ma che si potrà scoprire anche virtualmente e gratuitamente domenica dalle 11.30 con una guida turistica abilitata della start-up innovativa Travelit. Tra i vari murales anche quello raffigurante Pio Amedeo reduci dal successo di Felicissima Sera. Grazie alle tecnologie di live streaming come Zoom il miracolo avvenuto a Stornara potrà arrivare gratuitamente in tutte le case d'Italia ha dichiarato l'amministratore delegato Bianca Ia Felice. Infatti uno storico dell'arte ed una guida turistica abilitata girerà tra le strade di Stornara portando gli utenti a casa a vivere un'esperienza immersiva svelando aneddoti e curiosità sulle opere e gli artisti. Gli utenti connessi potranno anche interagire in diretta con la guida e rivolgere tutte le domande che vorranno.